Il 1962 è l'anno del sorpasso, memorabile film diretto da Dino Risi e interpretato magistralmente da un esuberante Vittorio Gasman. Tra le nuove mode dilaga il twist, un nuovo modo di ballare dimenando il corpo che scandalizza subito i moralisti. Peppino Di Capri ed Edoardo Vianello diventano simboli, con le loro canzoni, di questa nuova tendenza. È anche l'anno in cui quattro amici di Liverpool entrano in uno studio di registrazione e danno vita a una delle band più famose di tutti i tempi. Ma il 1962 per noi è soprattutto l'anno in cui viene per la prima volta realizzata una delle lampade più belle di tutti i tempi, o quantomeno del ventesimo secolo. L'arco dei fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni, realizzata da Floss. L'ispirazione è tanto semplice quanto straordinaria, classici lampioni cittadini. Questo perché la lampada in questione nacque dall'esigenza di creare un punto luce proveniente dall'alto, che fosse mobile e non vincolato in un sistema di illuminazione a sospensione. La base della lampada, anche in questo caso, è geniale. È un parallelepipedo di marmo bianco di circa 65 kg. E fin qui direte dove sta la genialità. Il foro. Con una semplice scopa, infatti, si può spostare senza fare eccessivamente fatica. Nulla, infatti, è lasciato al caso. La base viene realizzata in marmo, perché a parità di peso è decisamente meno ingombrante del cemento, che aggiungiamo noi anche esteticamente più gradevole. Gli angoli sono smussati, onde evitare di urtarci contro. Il foro, come dicevamo, è invece studiato come scamotage per trasportare agevolmente la lampada. Basta inserirvi, infatti, un manico di scopa e due persone possono comodamente spostarla senza spaccarsi la schiena. Il braccio, l'arco vero e proprio, consiste in tre settori in profilato d'acciaio inossidabile, con sezione a U, che scorrendo l'uno dentro l'altro, consentono di allungarne o accorciarne la lunghezza. Tutto ciò rende arco modulabile. Il posizionamento del riflettore, inoltre, può essere posto tra altezze diverse. Il paralume è a una distanza di più di due metri dalla base. Sotto ad esso si possono dunque sistemare tranquillamente un ampio tavolo da pranzo e le sedie. Così si esprimevano i fratelli Castiglioni. Pensavamo a una lampada che proiettasse la luce sul tavolo. Ce n'erano già, ma bisognava girarci dietro. Perché lasciasse spazio attorno al tavolo la base doveva essere lontano almeno due metri. Così nacque l'idea dell'arco. La volevamo fatta con pezzi già in commercio e trovammo che il profilato di acciaio curvato andava benissimo. Poi c'era il problema del contrapeso. Ci voleva una massa pesante che sostenesse tutto. Pensamo al cemento prima, ma poi scegliamo il marmo perché a parità di peso ci consentiva un minore ingombro e quindi in relazione ad una maggiore finitura un minore costo. La lampada arco quindi è estremamente versatile e pratica, eppure grazie alla sua raffinata e discreta bellezza spicca in qualsiasi tipo di arredo, donando eleganza e gusto all'ambiente. Si tratta di uno dei prodotti di design industriali più imitati e plagiati anche di sempre. Storica infatti l'azione legale Floss Semeraro, che portò ad una modifica delle norme sui diretti d'autore. Semeraro produceva in Cina lampade molto simili ad arco, vendendole con il nome di Fluida. L'azienda sosteneva di poter copiare le lampade perché nel frattempo i diritti per arco erano scaduti e diventati quindi di pubblico dominio. Floss, dal canto suo, sosteneva invece che arco non era solo un prodotto industriale, ma un'opera d'arte. Ebbene, nel 2007 il tribunale ha riconosciuto la tutela del diritto d'autore, come accade per le opere d'arte anche agli oggetti di design. Frutto dell'ingegno di una coppia di designer veramente eccezionali, basti pensare che in due hanno vinto 8 compassi d'oro, un compasso d'oro alla carriera e 16 menzioni. Arco quindi non è solo un'opera d'arte, un oggetto di design industriale, ma è un vero 007 in una cascata di diamanti. Questa lampada è ancora oggi uno dei pezzi di design più amati e desiderati in assoluto.